Presidente Peruzzo, quali sono le maggiori criticità che sta affrontando il San Luigi Galcio? Ma sicuramente l'impiantistica, noi siamo in questo momento penso una delle società più indietro per l'aspetto della struttura, questo riguarda il campo a 7, mentre per il campo a 11 siamo abbastanza bene. Per quanto riguarda l'attività sportiva siete indubbiamente una delle realtà maggiori di Trieste con oltre 300 atleti, dal punto di vista sportivo invece le cose sembrano andare decisamente meglio. Questo sì, questo sì, merito ai tecnici, ai responsabili, abbiamo un buon settore giovanile, siamo una delle quattro società che fanno i campionati regionali a livello elite, in tutta la regione solo quattro, siamo quarti in eccellenza che per noi è il massimo, è il traguardo massimo, l'eccellenza, abbiamo una squadra molto giovane e puntiamo soprattutto sui giovani. Abbiamo dall'anno scorso un'ottima collaborazione con la Juventus, la quale ci dà un supporto sia economico che tecnico e questo ci aiuta sicuramente tanto, ma soprattutto sotto l'aspetto tecnico. Vice Presidente Bolzonello, oggi ha visitato l'impianto del San Luigi, un sopralluogo, però lei qui c'è stato già anni fa? Ci sono stato moltissimi anni fa da giovane calciatore e poi ci sono stato con mio figlio accompagnando come fanno tutti i genitori quando appunto mio figlio giocava nella formazione giovanile della Sacilese. E' uno delle partite più accese sicuramente sempre qui con il San Luigi che ha sempre espresso grande qualità e il fatto che io ormai abbia i capelli bianchi sa anche significare come questa società in un arco così lungo di tempo, parliamo ormai di oltre 40 anni, abbia sempre mantenuto un grande livello. Essere sempre nei campionati giovanili regionali e non solo è una dimostrazione da un lato di solidità e anche da un lato di una cifra tecnica molto significativa. Oggi questa società ha la necessità, l'ha detto il Presidente Peruso poco fa, ha la necessità di rimettersi in linea con quelle che sono le esigenze di una società che ha oltre 300 atleti, che vuole fare anche qualità oltre che sociale, perché ricordiamoci che a livello giovanile si fa anche moltissimo sociale, quindi oltre al livello sociale è anche un livello tecnico un po' più elevato, ha bisogno anche di impianti, ha bisogno anche di strutture. È evidente che tutta la parte legata agli esploratori e non solo del campo a sette, quindi della parte giovanile, ha necessità di alcuni ragionamenti. Stiamo aprendo alcuni bandi, stiamo facendo alcuni ragionamenti complessivi con il collega Torrenti e quindi ci pareva giusto venire, visitare e renderci conto di persone di quelle che sono le esigenze. Io sono uno di quelli che dice che i bandi vanno aperti dopo che ci si è resi conto davvero di quelle che sono le necessità delle società. Ecco, qui oggi il Presidente ci sta dando proprio un'indicazione di quelle che sono le necessità. Dopodiché i bandi vanno aperti per tutti e quindi non interventi ad hoc per una singola società, ma per l'intero panorama, in questo caso calcistico regionale.